Eros Donatelli, direttore dell'azienda speciale per i servizi sociali di Montesilvano è un servizio in più che viene offerto questo dalla farmacia comunale che già applica una scontistica che viene ulteriormente ampliata usufruendo delle family card. Abbiamo immaginato questo percorso con family card che dà la possibilità di una scontistica aggiuntiva rispetto a quello che già la farmacia di per sé eroga e alcune categorie verranno tutelate in maniera particolare e queste categorie sono le famiglie numerose, le famiglie al di sotto 7500 euro i 6 di reddito le famiglie con minori di 0,3 anni, le famiglie con persone non sufficienti minori o anziani non ha importanza. A queste categorie verrà applicata una scontistica maggiore rispetto a quello che viene applicato a tutti gli altri. Questo è un meccanismo che dà la possibilità di aumentare la forza dei servizi sociali che eroga l'azienda speciale. In rete con le parrocchie, i sindacati, i padronati che possono veicolare l'informazione pensiamo che possa aumentare il beneficio per le categorie svantaggiate del Comune di Montesilvano. Com'è possibile usufruire di queste due family card? Per quanto riguarda quella normale, quella verde, la family card semplice basta andare in farmacia comunale, richiedere la card e la farmacia la rilascerà. Per quanto riguarda invece le categorie particolari, che sarebbe la family card quella rossa va fatto l'istruttore presso l'azienda speciale perché ovviamente noi in caso di valutazione dell'ISEE in caso del numero dei bambini dobbiamo fare l'istruttore e a quel punto poi gli verrà rilasciata direttamente l'azienda. Ad rispetto degli altri anni il dato interessante e significativo è che questa amministrazione è attenta ai problemi di tutti i cittadini di Montesilvano indistintamente perché il problema socio-economico è rivolto a Erga Omnes. Peraltro la farmacia comunale già applica una scontistica sua che ora viene ulteriormente ampliata con le family card. Sì, perché abbiamo voluto necessariamente rivolgere ai cittadini un servizio in più perché ci rendiamo conto che in questo periodo l'economia non aiuta affatto le famiglie. Questo è il primo di tanti altri progetti che saranno posti in essere unitamente alla Caritas e unitamente all'azienda speciale.